Buongiorno e benvenuti, questa è la Segna Stampa. Speriamo che oggi sia più fortunato rispetto a ieri. Ieri ho fatto la zuppa di porro, ma sono a Shanghai e voi non ci crederete. Nella tecnologia di Shanghai riuscire a trasferire un file neanche così grande da Shanghai a Milano, all'Italia, è una cosa complicatissima. Insomma, non ci siamo riusciti ieri. Andiamo subito a vedere quello che c'è sui giornali, che anche quelli con una certa difficoltà siamo riusciti a leggere questa mattina. La questione fondamentale in queste ore è la cosiddetta pausa elettorale. È un eufemismo per dire che il Movimento 5 Stelle non voleva presentarsi né in Emilia Romagna né in Calabria, dove ci sono due elezioni regionali fondamentali perché avevano strizza, paura, perché sarebbero andati non bene, probabilmente come in Umbria. Però hanno sottoposto a Rousseau, alla piattaforma Rousseau, questa scelta e il 70% di pochi, perché questa volta hanno votato in pochi sulla piattaforma Rousseau, degli iscritti alla piattaforma, hanno detto no, dovete candidarvi. Beh, questa è stata interpretata, questa scelta della piattaforma, della base, come si sarebbe detto una volta, come un vaffa della base ai capi. È la teoria del fatto quotidiano, se lo dicono loro, insomma, che conoscono bene il Movimento 5 Stelle, c'è da che crederle. Sconfitto, leader, cioè Di Maio dimezzato, il quotidiano nazionale, Repubblica fu forse il titolo più divertente, polvere di 5 stelle. Mi sembra un po' esagerato, però certo è che questa è una debacle per il leader politico che si chiama Luigi Di Maio, perché ci sono state 19 mila persone a favore del presentare liste in Emilia Romagna e in Calabria, contro gli 8 mila contro. Schiacciante dunque, sui 125 mila iscritti hanno votato 27 mila, schiacciante dunque la maggioranza per chi vuole questo voto, diciamo, di bandiera. La base dura e pura, non vuole l'alleanza col PD, ma vuole che si vada a votare. Travaglio, cosa si inventa? Oggi è straordinario. Già chiedere un parere è un errore. Era Casaleggio, a suo tempo, che decideva se fare o no e se i meet-up potevano sia o no presentarsi alle regionali. Insomma, fantastica l'idea un po' elitaria di Travaglio, che è il grande interprete delle questioni del Movimento 5 Stelle, che dice che non si doveva sentire la base. Dopo che ci hanno fatto due palle così, sulla base, sulla democrazia diretta, toc toc! Dove è finita la democrazia diretta, Travaglio, se oggi mi stai spiegando che invece è stato un errore consultarla? La democrazia diretta va bene solo quando è diretta secondo i fini che Travaglio e i capi decidono. Nel frattempo, ovviamente, il PD emiliano resta in difficoltà, per il semplice motivo che Bonaccini oggi, per esempio, in un'intervista al Corriere della Sera, dice che il titolo è questo. Si assumano le loro responsabilità o sarà un regalo alla destra. È del tutto evidente che la lista del Movimento 5 Stelle indebolisce il PD che avrebbe preferito che non si candidasse al Movimento 5 Stelle o si candidasse con loro. Ulteriore retroscena è che, mi sembra che questo lo tiri fuori il Corriere sempre, che comunque andrà male per, anzi è il di Fabio Martini sulla stampa, ma comunque andrà male per il Premier Conte, perché in realtà è uno sfrantumamento, mettiamola così, del governo e della conizione che è al governo. Ieri ha riunito in una cena 22 ministri all'Arancio d'Oro a Roma, però la cosa che è uscita nelle retroscene di questa cena è chissà se supereremo gennaio. Seconda questione, le sardine sono là che si preparano. Beh, lì il commento è quello di Sallusti, che dice l'Italia è l'unico paese al mondo in cui si scende in piazza contro l'opposizione. In Italia si scende in piazza, a Hong Kong si scende in piazza contro il governo, in Italia si scendeva in piazza contro i governi. No, questo è un paese in cui si scende in piazza, non la Cina dove sono ora, l'Italia, dove si scende in piazza contro l'opposizione. La roba, se pensate, folle, perché poi se vai a vedere il manifesto di questi che scendono in piazza, dicono grazie ai nostri padri e ai nostri nonni, voi di destra avete il diritto di parola, ma non il diritto di essere ascoltati. complimenti per questo manifesto, cioè noi non abbiamo il diritto di essere ascoltati? Beh, non lo so se noi abbiamo il diritto di parola, non sempre ce l'abbiamo, se fosse per molti, ma il diritto di essere ascoltati è un fantastico slogan che non può che piacere soltanto alla sinistra, che oggi è pazza di questi slogan. Oggi chi è che ho visto? Qualcuno diceva, chi è che lo diceva? Da qualche parte diceva che sono una fiumana di giovani contro, che sfida i nazi pop, che sarebbero Salvini e gli altri, i nazi pop. Dalla balena bianca alla acciuga rossa, titola invece, come sempre, molto divertente, Feltri. Gli obiettivi quali sono? Io non l'ho ancora capito di questo movimento, se non quello di contrastare Salvini. Invece loro, oggi i giornali di sinistra, cosa ci dicono? L'obiettivo, perché c'è scritto nel manifesto, è che torni una politica seria. Che vuol dire seria? Io voglio sapere cosa vuol dire seria a seconda di chi la giudica. Comunque, insomma, l'intervista di Salvini oggi su qualche giornale dice esattamente le cose di Sallusti, quindi ve la risparmio. Nel frattempo siamo sulle grandi questioni economiche, che sono quelle serie di questo paese. Ilva e l'Italia in particolare, l'Italia all'ottavo salvataggio con i nostri soldi. Diceva De Bortoli, ieri, non l'avete visto, 9 miliardi di soldi pubblici all'Italia. Quante altre cose avremmo potuto fare in alternativa? Oggi l'idea che esce sui giornali è che ci sia una specie di consenso tra tutte le partecipate pubbliche e ministeri per mettere una specie di cordata, un salvagente nei confronti di Editalia e Ilva. Molto interessante, oggi tra l'altro si vedono, chissà cosa succederà, Mittal con Conte. Di Pietro, intervistato da Libero, l'ex giudice di Mani Pulite, dice beh, anche la magistratura ha una sua responsabilità, se lo dice Di Pietro, fantastico. Poi invece il tempo mette in scena un retroscena che non abbiamo letto con tanta attenzione sugli altri giornali. Cioè ci sarebbe stato un incontro tra Conte e Benetton per la questione all'Italia e Benetton avrebbero detto, beh, certo se ci tireriete le concessioni è difficile che noi si possa mettere 350 milioni all'Italia. E Conte gli ha detto, noi togliamo le concessioni e ce ne fottiamo. Se volete entrate in Alitalia, boh, Buffagni che ha un ruolo importante nel Movimento 5 Stelle e che mi sembrava il più ragionevole del Movimento 5 Stelle, oggi dice una cosa totalmente irragionevole in un'intervista che rilascio al Corriere della Sera. Niente scudo, chi inquina paghi. Che cazzo c'entra? Ma cosa c'entra? Chi inquina paga. I Mittal non è che stanno pagando quello che inquinano, stanno cercando di riprendersi una fabbrica che perde 2 milioni di euro al giorno, 60 al mese e più di 600 all'anno. E stanno cercando di fare investimenti 4 miliardi in un'azienda italiana con la magistratura che un giorno sì, un giorno no, le dice e le dà delle prescrizioni nuove. Buonafede al Sole oggi ci spiega che non ci sarà nessun rinvio per la prescrizione, altra grande follia del Movimento 5 Stelle, votata, ahimè, anche dalla Lega. Molto interessante invece sia MF e il Sole 24 Ore che vanno su un tema che sembra poco interessare ai giornali italiani, ma che è fondamentale. E cioè le famose agenzie di rating, una di loro, Moody's, quelle che bacchettavano sempre l'Italia, oggi bacchettano le banche tedesche. Sulle banche tedesche, grazie ai tassi negativi, cioè a una difficoltà di fare industria per le banche tedesche, vi è un rischio sistemico fortissimo. Se lo dicono quelli di Moody's, non so se c'è da crederci, certo è che bisogna stare attenti. L'ultima questione, non posso non citarvela perché l'ho letta su Repubblica, tutti contenti, i Coldplay decidono di non fare più i tour. Niente più tour, niente più concerti. E sapete perché? Sapete perché? Perché inquinano. I concerti inquinano. Pensate io che cosa deve fare per essere venuto qua a Shanghai. Io sono il peggiore degli inquinatori. Il mondo va avanti, il mondo va in aereo, il mondo vuole i concerti, il mondo non è più Cristo si è fermato eboli, ma avere i Coldplay con la musica a 2 miliardi di watt all'ora. Questo penso che sia il futuro. Cioè un futuro che non si può fermare, niente più concerti, niente più aerei, niente più treni, niente più CO2, che non è, by the way, un inquinante, ma è un gasserra che non è scritto da nessuna parte, da nessuna parte che si possa definire un inquinante. E' chiaro, l'Italia scrive Repubblica Pensosa, per la musica dal vivo ha prodotto 3 milioni di tonnellate di CO2. Con questo criterio non dovremo più mangiare carne, non dovremo più fare le attività tipiche della nostra modernità. E come scrivo nel mio libro, le tasse invisibili, leggete una parte delle tasse invisibili, in cui spiego esplicitamente quanta CO2 si produce con un'email. Una sola email produce 19 grammi di CO2. Quindi non rompiamo le palle, cari Coldplay, siete politicamente perfetti, corretti, e ci ricorderemo di questo vostro ennesima cazzata. Spero che questa mia zuppa di porro vi arrivi, adesso la spedisco. Ciao!